Buonasera Murigno, beh ragazzi lo sappiamo tutti, notizia di ieri, Murigno, nuovo allenatore della Roma, tra l'altro complimenti alla Gazzetta dello Sport che aveva fatto dei titoloni, sarri alla Roma, complimenti, siete sempre molto ben informati. Vabbè, a parte questo, comunque la mia posizione su Murigno alla Roma qual è? Ve lo dico subito, io da adesso sono anche un po' tifoso della Roma, ovviamente resto interista e ci mancherebbe altro, in qualsiasi competizione partecipi l'Inter e partecipi anche la Roma, io tifo Inter e spero che l'Inter arrivi più avanti della Roma. Però, comunque, per me Murigno è un idolo, sono contento che sia tornato in Italia, secondo me dovremmo essere tutti contenti, perché un personaggio del genere porta impatto mediatico importante, quindi ci consente di avere più seguito e potrebbe, potrebbe nel tempo, essere un primo passo verso il ritorno della Serie A come campionato più importante del mondo. Piano piano, comunque un passo avanti, un personaggio come Murigno è qualcosa di importante averlo in Italia. Poi magari cominciamo a vedere qualche intervista un po' più interessante, ecco, non sempre le solite banalità, perché diciamo la verità, anche le interviste di Conte sono un po' noiose, insomma, è sempre banale, anche se non ci interessa, perché noi da Conte vogliamo risultati, vittorie, non ci interessa quello che dirà nelle interviste, però un'intervista di Murigno a fine partita me la gusto di più, cioè sono più interessato alle parole di Murigno, secondo me è una persona molto acuta, intelligente, interessante da ascoltare. C'è parecchia gente che non è d'accordo con me, parecchia gente ci è rimasta male, qualcuno ha parlato di tradimento, io ragazzi vi dico questo, sono professionisti, ok? Cioè a me, dico la verità, sarebbe dispiaciuto vederlo sulla panchina del Milano o della Juventus, però della Roma mi va bene, cioè Murigno è diventato interista perché è venuto all'Inter e ha vinto con l'Inter, però Murigno è portoghese, cioè ha 7-8 anni quando si decide che squadra tifare, lui avrà deciso di tifare non so il Benfica piuttosto che il Porto, adesso non so che squadra tifasse da bambino, non è un tifoso interista, cioè non è come noi tifosi di Inter, Milan e Juve. Cercate di capirla sta cosa, sono professionisti, ok? I calciatori e gli allenatori sono professionisti. Ce la fate? Avete capito questa cosa? Ok, allora ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti e bentornato Murigno.